Io cominciai proprio da lì, dall'Arrodino. Donne, è arrivato l'Arrodino! Che prima mi portava sopra le spade, si sciomente che passavano un accidente, poi mordichedda, sopra mordichedda, mi ho comberato la bicichetta di Arrodino! Solo una rimase. Nella mia mente è come la prima volta che la vivi. Teresa. Teresa era bellissima. Ilaria de Casta la ottiene con le graffa, con lo panzerotto, con le crispelle, con... cucannolo, 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 minchia, ucannolo. Il cannolo di calogero! Il cannolo di calogero, grande, grosso oppure piccolo, non importa che ti sazia, l'importante è che ti piaccia e che ti tolga anche la voglia dalla mamma, dalla zia e anche dalla nonna. Ocani, Eccolo? Andate a fare date! Eccolo, eccolo. Ocani, Ocani, Eccolo. варa!